buon pomeriggio ben trovati e ben trovate a questo webinar sull'accountability io sono nora in vinco e oggi sono qui con voi per introdurre e moderare questo webinar prendo giusto qualche minuto innanzitutto per dare a tutti e tutte il tempo di collegarsi verificare che l'audio funzioni e soprattutto che anche le slide che vi sto condividendo siano visibili vi ricordo che per qualsiasi problema tecnico potete utilizzare la chat e intanto vedo che stanno aumentando gli ingressi e soprattutto stanno aumentando i saluti quindi direi che per ora funziona tutto io mi prendo giusto qualche minuto per introdurre questo incontro di oggi e poi passerò la parola ai nostri relatori ma ve li presento dopo innanzitutto come immagino sappiate siamo all'interno della settimana dell'amministrazione aperta la open gov week che è iniziata lunedì 8 maggio e si concluderà questo venerdì è un evento che si ripete tutti gli anni promosso dalla open government open government partnership scusate una rete cui partecipano 70 paesi in tutto il mondo che appunto hanno deciso di portare avanti questo partenariato e quindi condividere progetti iniziative tra cui eh questa open gov week in cui ci troviamo adesso per come vedete sostenere e condividere una cultura orientata ai valori della trasparenza dell'integrità della partecipazione e della partecipazione civica nonché anche dell'accountability che è eh il tema su cui verte il nostro webinar di oggi potete eh se siete curiosi e curiose potete andare sul portale di open gov italia e eh oltre a a prendere più informazioni al riguardo avere anche una panoramica su tutti gli eventi che sono in programma sia quelli che ci sono stati nei giorni precedenti ma anche sugli eh eventi prossimi qui poi vedete una uno screenshot di quelli che sono eh gli eventi a a stretto giro ma vi assicuro ce ne sono molto a molti altri quindi eh se avete la curiosità andate eh su appunto open gov open.gov.it noi eh chi siamo noi noi siamo un progetto eh noi siamo eh entriamo all'interno di questo progetto open gov metodi e strumenti per l'amministrazione aperta che è eh viene da una ehm da un accordo tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez e eh sta all'interno del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 e 2020. Questo eh progetto di formazione eh prevede quattro mock ovvero quattro corsi di formazione tutti completamente online ehm che eh stanno hanno fatto hanno avuto in questo anno più edizioni come vedete in quest'infografica queste sono le ultime edizioni che ci apprestiamo a derogare da qui fino al mese di luglio ma vi faccio vedere eh più nel dettaglio delle eh i quattro eh mock che abbiamo eh costruito all'interno appunto di questo progetto su su open gov e eh che ha in questi eh in queste settimane che questa settimana appunto entrano dentro la la settimana dell'amministrazione aperta. Oggi ci troviamo nel mock accountability, abbiamo una platea mita perché abbiamo sia eh partecipanti iscritti al corso che quindi oggi sono al loro secondo webinar e alla loro seconda settimana di formazione ma abbiamo deciso proprio in occasione di questa settimana di aprire il webinar a una platea più ampia e chi fosse interessato a queste tematiche e eh permettendo anche di eh potersi iscrivere un po' in ritardo. È una cosa che di solito non facciamo ma eh appunto in occasione di questa settimana particolare sia il mock sull'accountability che il mock dedicato alle pratiche digitali di partecipazione che eh appunto eh è iniziato ieri e che avrà invece domani un webinar aperto sempre inserito in questa settimana avete eh possibilità di iscrivervi fino a eh venerdì dodici ovvero fino all'ultimo giorno di questa Open Gov Week. Ehm l'invito è quello di andarvi a leggere le schede didattiche pubblicate su eventi PA. Appena termino la presentazione vi inserirò i link in eh nella chat così avrete modo di vedere nel dettaglio quali sono gli argomenti di ciascun corso e soprattutto come sono questi come sono eh costruiti questi corsi. Qui eh molto sinteticamente vi ehm vi mostro che si trattano di corsi che prendono in totale cinque settimane. Sono completamente fruibili a distanza in apprendimento autonomo e quindi siete voi a decidere come, quando e da dove eh usufruire dei contenuti didattici che abbiamo prodotto per voi. Eh ci sono diversi eh tipi di contenuto quindi avete delle video lezioni, delle interviste, dei webinar come quello che stiamo svolgendo adesso che ricordo è il secondo webinar di questa edizione del mock sull'accountability. Potete seguirli online, se non riuscite a seguirli online potete eh visionare successivamente la eh registrazione. Ci sono poi dei quiz di autovalutazione, dei test che fate voi sempre in maniera autonoma che non servono per eh superare degli esami o delle prove ma solo per fare un'autovalutazione di quanto avete appreso e di quanto vi sono chiari i contenuti trasmessi attraverso eh le video lezioni, i webinar e tutti gli altri materiali. Questa sinteticamente è la descrizione del mock sull'accountability eh all'interno del quale ci troviamo oggi. Il primo è un modulo trasversale anche agli altri mock sull'open data, sugli open data e sulle pratiche eh digitali di partecipazione. Ehm il secondo modulo che si è aperto ieri eh che appunto porta il titolo poi del nostro webinar di oggi cos'è l'accountability che ne illustra i principi eh di base e la normativa di riferimento. Il terzo modulo con un webinar che faremo eh la prossima settimana affronta i temi su come rendere accountable una pubblica amministrazione e infine il quarto modulo eh che sempre sarà accompagnato da un webinar parla degli strumenti dell'accountability. I due relatori di oggi che mh a brevissimo eh ci eh parleranno appunto di che cos'è l'accountability sono Gianfranco Andriola e Luigi Reggi ma prima di iniziare con il webinar io eh chiederei a la alle nostre colleghe del del Formez che si occupano della regia di questo webinar di eh mandarci una brevissima intervista eh che appunto eh vi spiega un po' meglio mh di cosa di cosa parliamo. Perché un'offerta formativa sui temi del governo aperto? Beh innanzitutto perché eh sviluppare le competenze del personale pubblico è fondamentale. Non a caso il tema è al centro del PNR, e il 2023 è l'anno europeo delle competenze. La formazione sul governo aperto però acquisisce una specifica valenza perché costituisce un fattore abilitante di tutte le politiche di riforma e di innovazione. I temi dell'accountability, della trasparenza, dell'anticorruzione e dell'inclusione sociale infatti sono l'ingrediente fondamentale di ogni politica pubblica. Qual è l'offerta formativa proposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica sui temi del governo aperto? L'offerta formativa immaginata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sui temi del governo aperto è universale, rivolta a tutti. L'obiettivo infatti è quello di costruire innanzitutto un dizionario comune, una diffusa sensibilità e conoscenza dei temi del governo aperto. Lo strumento privilegiato in questo senso è quello dei MOOC, pillole online fruibili facilmente e compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana. Arricchiremo progressivamente questa offerta con altri materiali e corsi in presenza da remoto anche da parte di altri soggetti istituzionali quali la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Le competenze sul governo aperto si sviluppano però anche sul campo, da questo punto di vista sono fondamentali i progetti pilota di Open Government che stiamo realizzando con tante amministrazioni. Dove si possono trovare informazioni sui corsi online in partenza e come ci si può iscrivere? Le informazioni su corsi e date sono reperibili sul nostro portale OpenGov che è il portale del governo aperto della nostra pubblica amministrazione. Sullo stesso portale troverete le informazioni operative su come registrarvi attraverso la pagina eventi PA del Formez. Ad ogni modo vorremmo caricare presto tutti i contenuti formativi anche sulla nuova piattaforma Syllabus nuove competenze per le amministrazioni pubbliche. I corsi MOOC sul governo aperto infatti rappresenteranno una prima componente fondamentale del percorso sulla transizione amministrativa a supporto di tutte le amministrazioni centrali e locali. Eccoci, spero adesso che con l'intervista al dottor Angeletti sia ancora più chiaro cosa stiamo facendo e quali sono appunto gli obiettivi di questi corsi online. Io vi ho messo nella chat tutti i link per le varie schede didattiche dei quattro corsi che al momento vi potete iscrivere. Rispondo subito a una domanda che è arrivata. Le edizioni diverse, diverse edizioni dello stesso corso hanno gli stessi contenuti. Quindi non è come se fosse una versione avanzata o con qualche contenuto nuovo. Quindi chi ha già seguito la prima edizione di un corso già erogato può non iscriversi alla seconda perché troverà gli stessi contenuti. Se fosse una serie tv non è una seconda ma è una replica della prima. Esatto, esatto. E quindi Gianfranco ti lascio la parola. Vi ricordo che per rivolgere le domande ai nostri relatori usate il box domande e risposte. Per tutti invece le richieste di supporto tecnico usate la chat. E buon webinar. Ciao a tutti, ben arrivati, grazie mille Nora, grazie a tutti di averci raggiunto, grazie soprattutto guardando parte dei vostri nomi, sbirciando su eventi di IPA. Mi sembra di capire che molti di voi stiano in qualche maniera partecipando direttamente alla settimana di amministrazione aperta seguendo le attività che vi proponiamo, quindi davvero grazie di cuore ci fa molto piacere sapere che in qualche maniera ci sia interesse, ci sia coerenza rispetto a un racconto di come può funzionare il governo aperto sui temi di cui da un po' ci piace raccontare. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci, credo, la scorsa settimana parlando di OpenGov, lo diceva bene Nora prima, è un modulo comune, è un modulo introduttivo comune a tutti i corsi che proponiamo all'interno del progetto Open Government, mette gli strumenti, lo diceva Nora, li lanciava Sara Angeletti nella sua intervista, e perché riteniamo utile partire da una base condivisa comune a tutti i corsi e che poi diventa il, insomma, i cosiddetti pilastri al governo aperto ci aiutano a innanzitutto creare, diceva bene Sara Angeletti, un vocabolario comune, una base di conoscenza comune su cui puoi approfondire a seconda del corso che portiamo avanti. In questo caso parliamo di accountability, siamo al secondo modulo, quindi ci avviciniamo un po' di più al significato della parola, in realtà quello che ci tenevamo, soprattutto che ci teniamo a individuare insieme a voi col secondo modulo del corso accountability e in generale, in particolare con questo webinar, provare a trovare una definizione comune di una parola anche difficile da pronunciare e da scrivere come accountability e quindi sulla base di questo, sulla base di individuazione di un vocabolario comune, di una definizione comune del termine accountability, proviamo poi a sviluppare anche i corsi successivi, cioè avremo modo di vedere più da vicino gli strumenti attraverso cui una pubblica amministrazione può essere accountable e proviamo a capire anche quali sono i fattori chiave di una buona accountability nell'ambito delle politiche pubbliche. Partiamo da una definizione, proviamo a capire insieme com'è che può funzionare, perché parliamo di accountability e che cosa significa la parola accountability, come immagino sappiate è una parola di relazione inglese, in realtà è composta, è una crasi, è una composizione di due parole diverse, account sta per conto, rendi conto, cronaca, in qualche modo racconto, da questo punto di vista possiamo dire che la sintesi potrebbe essere dar conto, essere account significa essere in grado di dare conto di quello che si è fatto, e ability sta per abilità. La composizione di questa parola, l'accountability, ci aiuta a capire che effettivamente si parla, cioè quando parliamo di accountability parliamo di una capacità, di una professionalità, di una modalità per declinare nel nostro caso le politiche pubbliche rispetto alla loro visibilità dall'esterno. Il fatto che chi sta all'esterno della pubblica amministrazione, se la pubblica amministrazione è davvero accountable, dovrebbe essere in grado di comprendere quello che sta succedendo all'interno delle amministrazioni e quindi eventualmente di partecipare in maniera più coinvolta rispetto all'attività che le stesse pubbliche amministrazioni portano avanti. Brevissimo inciso, in qualche modo introduzione all'intervento successivo, dove avete la fortuna di ascoltare Gigi Reggi che ci racconta un caso di successo di monitoraggio civico. Da questo punto di vista l'accountability può anche essere considerato come una sorta di evoluzione del concetto di trasparenza rispetto alla definizione classica. Da questo punto di vista la definizione che trovate su Wikipedia è più o meno quella più condivisa. Considerate che è una cosa che trovo curiosa e che vi ripropongo in questi termini. La stessa Wikipedia parla di un concetto continentale di responsabilità, traducendola dell'inglese. È un po' come dire che nella nostra cultura più continentale è più difficile trovare una parola che possa, cioè trovare una localizzazione coerente rispetto a un contesto culturale nostro del termine accountability. È interessante perché ci sono varie teorie sul perché questa cosa funziona in questo modo. Una di quelle che trovo più interessanti, più divertenti se volete anche, ed è quella che decido di riproporvi in questo webinar, è qualcuno sostiene che nei paesi anglosassoni che hanno una cultura formata anche sulla base delle cosiddette chiese riformate, Lutero, Giovanni Calvino, quindi hanno un approccio meno dogmatico rispetto a quello che abbiamo noi di tradizione cristiana, che siamo più bravi ad avere delle regole e trovare il modo per bypassarle. Di contro nelle cosiddette chiese riformate la capacità è quella di riuscire ad essere, a dimostrare di guadagnare il paradiso, cioè è dentro il credente la necessità di essere all'altezza di meritare il paradiso in vitalità tra il reno. E da questo punto di vista può essere un'ipotetica spiegazione del perché da noi culturalmente è un po' più difficile parlare di accountability, è un po' più facile parlare di dogma e quindi di adempimento normativo più puntuale. Considerate che le cose sono di evoluzione, soprattutto considerate che proprio perché l'accountability con lo stato di diritto e con un'evoluzione normativa che va sempre più nel senso della trasparenza, della rendicontazione condivisa, la cosiddetta rendicontazione sociale, è un termine molto sfumato, è un termine che cambia significato a seconda dell'accezione in cui viene considerato. Ci sono vari tipi di accountability, molto probabilmente vi sarà capitato di imbattervi anche avendoci a che fare con banche, conti, vi discorrendo con l'accountability bancario. È un tipo di accountability, chiaramente gli istituti di credito hanno proprio per loro necessità di funzionamento, devono essere in grado di rendicontare le loro attività alle banche centrali e banche europee. Da questo punto di vista per esempio la pagina che la BCE, la banca centrale europea, dedica all'accountability, a mio avviso è molto molto indicativa sia dell'accountability bancario ma proprio del concetto di accountability. Ad esempio in questa pagina ci trovate scritto che la BCE in qualche modo deve rendicontare all'obbligo di rendere conto del proprio operato principalmente al Parlamento europeo. Da questo punto di vista questa definizione ci aiuta a capire, a declinare il termine accountability come un sistema di relazione tra soggetti diversi, dove uno si impegna, in questo caso la BCE, ad essere accountable, cioè a dimostrare che le proprie attività vengono svolte in un certo modo rispetto a un altro soggetto. Quando parliamo di accountability pubblico vedremo, avremo modo di vedere più avanti, che i soggetti sono vari, sono più ampi e che quindi ci sono modalità più congure al modo in cui viene rappresentato l'accountability. Considerate chiaramente che l'accountability non è una caratteristica proprio delle istituzioni pubbliche. A loro volta anche le aziende private tendono ad essere accountable, sempre più tendono ad essere accountable, soprattutto su alcuni temi proprio per rivolgersi ai loro clienti o ai loro potenziali clienti in un modo diverso. Ad esempio da qualche anno a questa parte, proprio perché il tema del riscaldamento globale è molto sentito, molto sentito alla questione ambientale. Ci sono molte aziende, io qui ho preso la pagina dell'IKEA, ma trovate una pagina simile più o meno su quella di qualunque grande, anche Amazon è una dedicata e qualunque altra grande azienda vi venga in mente, alla sostenibilità. Quindi è come se le grandi aziende si sentissero in dovere di essere accountable rispetto alle scelte ambientali che fanno per assicurare la longevità dei loro prodotti. E anche da questo punto di vista è interessante andare a vedere come il termine accountability si può declinare in un rapporto particolare, in questo caso in un rapporto molto settorial, rispetto a un settore specifico che è quello del green, dell'ambiente. Interessante anche, sempre da un punto di vista aziendale, il modo in cui quando si parla di accountability si tende a parlare anche di asimmetria informativa, cioè di quella situazione in cui soggetti diversi che in qualche modo concorrono alla stessa decisione o concorrono nella stessa arena decisionale hanno informazioni diverse rispetto all'oggetto di discussione. Per esempio, un po' di tempo fa ha fatto molto discutere la scelta di alcune pubbliche amministrazioni europee di dotarsi di smart camera, cioè quelle telecamere che sono connesse a internet e hanno dell'intelligenza artificiale in grado di elaborare le immagini che registrano. La scelta di utilizzare delle telecamere di derivazione cinese, guardando più da vicino il codice, cioè il software con cui funzionano quelle telecamere, ci si è accorti che aprono delle cosiddette backdoor, cioè delle connessioni non perfettamente tracciate che comunicano dati all'esterno, non si capisce bene verso chi. Quindi capite che da questo punto di vista anche nella tecnologia si tende, è necessario essere molto accountable, essere molto chiari, essere molto cristallini rispetto a come viene utilizzata, anche perché da consumatori delle volte ci si trova in situazioni ambigue. Non è un caso che, non lo so, la Apple per gli iPhone oppure Google per tutto quello che riguarda Android, dal punto di vista della privacy incidono, cioè marcano molto la loro offerta di software, proprio perché per tranquillizzare i loro ipotetici clienti e quindi essere accountable rispetto al mondo in cui gestiscono i dati personali dei propri utenti. Chiaramente a proposito di accountability non si può non parlare di accountability politico, da questo punto di vista chiaramente la definizione è un po' più sfumata, nel senso che è evidente interesse da parte dei partiti essere accountable nei confronti dei propri elettori, quindi dover rendicontare, dover spiegare, dover motivare le scelte che si assumono in Parlamento, piuttosto che in rene politiche differenti, locali o regionali, rispetto a come stanno andando le cose, rispetto a come si è votato, rispetto a quello che si è fatto. Ed è interessante ad esempio vedere che per l'accantabilità politica possiamo non limitarci a parlare dell'accantabilità dei singoli partiti, dove la questione si sfuma un po' verso la cosiddetta questione morale di Berlinguer, per avere un'idea un po' più, però si può anche fare un discorso un po' più dettagliato, un po' più vicino a quell'accantabilità di cui avremo modo di vedere un po' più avanti, tra un attimo rispetto alle singole scelte. Se andate a guardare sulla pagina del Senato o la pagina della Camera dei Deputati, potete vedere che in maniera perfettamente coerente col principio dell'accantabilità, queste due istituzioni restituiscono tutti i dati sulle votazioni che vengono fatte in entrambe le Camere, e quindi dare la possibilità a chiunque di capire quello che succede e come evolve il punto di vista dei partiti e delle votazioni rispetto alle questioni emergenti. E' un ottimo sistema di accantabilità, un ottimo modo per rafforzare la trasparenza e l'integrità delle istituzioni. E' interessante anche da questo punto di vista, soprattutto nella logica di governo aperto, quindi dei dati aperti, di monitoraggio civico, di condivisione delle informazioni, anche utilizzando le potenzialità delle nuove tecnologie, vedere come questi dati poi a loro volta possono diventare strumento di accantabilità diffuso, e possono essere rielaborati e navigati in maniera differente. Ad esempio un progetto molto interessante di Open Policy di qualche tempo fa, che permetteva, prendendo i dati di cui vi parlavo prima di Camera e Senato, rielaborandoli e rendendoli navigabili attraverso questa applicazione, rendeva molto semplice comprendere come stavano andando le elezioni in Parlamento, come i singoli eletti andavano, votavano sulle singole votazioni, come l'assentesmo in aula e via discorrendo. Sprendeva tutte le informazioni disponibili su quei siti e le rendeva molto più semplici da navigare, molto più semplici da comprendere. E anche da questo punto di vista è interessante vedere come soggetti esterni nella pubblica amministrazione, il caso di associazioni come Open Policy o il caso di giornalisti, come delle volte succede che i giornali riprendono questi stessi dati per farci dei pezzi, diventa una sorta di cassa di risonanza della trasparenza, cassa di risonanza dell'accountability, ed è un meccanismo virtuoso e molto interessante che può essere abilitato grazie appunto a uno strumento come quello dei dati aperti o dell'accesso alle informazioni. Un altro esempio interessante di accountability, non fosse altro che è stata credo la prima volta che in maniera esplicita nella normativa italiana si è parlato di accountability, esattamente nell'accezione in cui lo stiamo utilizzando noi, è il GDPR, il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali, fa una sorta di evoluzione, non parlerei in versione di rotta, ma insomma in qualche modo aggiorna l'idea di accountability rispetto alla vecchia normativa delle privacy che avevamo in Italia, in cui sostanzialmente si introduce il termine accountability e si fa un discorso molto chiaro, molto diretto a chiunque si trovi, pubblico o privato, a gestire dati personali degli utenti in cui il GDPR sostanzialmente dice guarda io ti posso dare delle regole, io ti posso dare un quadro dentro cui tu ti devi muovere, ma è tua responsabilità come gestore dei dati personali dei tuoi utenti essere in grado di dimostrare, di fare, adottare tutte le misure necessarie affinché la privacy sia tutelata. Quindi da questo punto di vista non ha un atteggiamento, GDPR non ha un atteggiamento dogmatico come dicevamo prima, ma un atteggiamento dove sostanzialmente si dice sei tu istituzione pubblica o soggetto privato che rispetto a una serie di campi di delimitazione che vengono date dalla normativa, devi muoverti affinché puoi tutelare i dati nel pieno principio di accountability rispetto alle regole che ci siamo dati. E da questo punto di vista è estremamente interessante vedere come nella normativa italiana si introduce questo concetto e probabilmente ci sono ottima probabilità che sia destinato a trovare nuove risonanze. Ad esempio, sempre a proposito di normativa europea, le prime bozze che circolano già da un po' di regolamentazione dell'intelligenza artificiale o dei data point a tutto il mercato dei dati più o meno va nella stessa direzione. Da questo punto di vista chiaramente è anche funzionale nel senso dare delle regole puntuali rispetto a un settore come quello dell'innovazione tecnologica in cui le tecnologie evolvono praticamente ogni mese e quindi creare delle regole oggi che vadano bene di qui ai prossimi due, tre, quattro, cinque anni oggettivamente è cosa molto più complicata. Diventa invece molto più razionale, molto più funzionale creare un quadro di regole e chiedere a chiunque opera in questo mercato di attenersi a quelle regole in logica appunto di accountability. guardando queste prima panoramiche sulle varie declinazioni del termine accountability avviciniamoci un po' di più a quella che ci interessa di più, cioè l'accountability delle politiche pubbliche. Anche qui ci sono varie definizioni, quella che poi sentiamo cosa ne pensa Gigi Reggi, però quella che io trovo più coerente rispetto all'idea di accountability anche declinata rispetto al tema dell'open government è questa qui del Dipartimento di Politiche Europee in cui si tenta anche una traduzione, una localizzazione del termine come rendicontabilità, obbligo, capacità di rendicontazione e si dà una serie di, per arrivare al termine ci si appoggia ad altri termini più noti e più consolidati nel modo in cui funzionano, nel vocabolario della pubblica amministrazione. Chiaramente l'accountability è anche trasparenza, diciamo la condizione necessaria affinché l'accountability possa funzionare e responsività, cioè la capacità di tenere conto delle scelte, cioè di rispondere di quello che si è fatti e l'ha evidentemente conformità alla capacità di rispettare le norme. Le pubbliche amministrazioni funzionano anche grazie a un quadro normativo con il tuo cui devono muoversi e evidentemente essere accountable significa anche per forza di rispettare le regole che ci si è date. Da questo punto di vista a mio avviso si può guardare l'accountability come una sorta di scambio, cioè da un lato cittadini, imprese, associazioni di categoria, insomma qualunque soggetto esterno della pubblica amministrazione opera secondo un principio di delega, cioè attribuisce alle istituzioni dei poteri, delle funzioni, della progettualità che è evidentemente mediata da tutto un sistema, però c'è un sistema, viene data delega alle istituzioni pubbliche di svolgere il proprio ruolo, le istituzioni pubbliche a loro volta ricambiano questa responsabilità, questa investitura di responsabilità attraverso l'accountability, cioè dando conto di quello che stanno facendo e cercandolo di fare al meglio. Evidentemente, lo dicevamo prima, tutta questa cosa è normata e la normativa da questo punto di vista è in grande evoluzione, pensate a decreti che hanno avuto un impatto diretto sulla trasparenza come il decreto 33 oppure i vari decreti presidiati dall'ANAC di cui parleremo tra un istante, la normativa tende nel corso del tempo, è un po' come se il legislatore si fosse effettivamente reso conto che utilizzare sistemi, cioè coniugare il tema della trasparenza con quello delle nuove tecnologie in una logica di accountability oggettivamente porta dei vantaggi e porta un rafforzamento delle istituzioni. Altro tema centrale, interessante da questo punto di vista, è che l'accountability non è solo degli enti pubblici, ma anche dei dipendenti pubblici, cioè non parliamo soltanto di organizzazioni accountable, ma è anche un parte del mestiere con cui i dipendenti pubblici lavorano all'interno delle pubbliche amministrazioni. Detto questo, penso sia utile andare a guardare un po' di riferimenti, prima di passare alla parola a Gigi Reggi, di chi sono i soggetti che in Italia operano nel campo dell'accountability e quindi da questo punto di vista fanno un po' le regole, almeno quelli a cui ci si può fare affidamento al momento in cui si vuole guardare al tema dell'accountability. Chiaramente l'autorità nazionale dell'anticorruzione svolge un ruolo centrale rispetto alla trasparenza e a tutti i temi dell'anticorruzione e a tutti i temi legati all'ANAC, ma chiaramente anche rispetto all'accountability. Il compito dell'ANAC è chiaramente quello di lavorare rispetto alla mission istituzionale dell'ANAC, ruota intorno all'anticorruzione e agli obiettivi di trasparenza, al conferimento degli incarichi pubblici e a tutte le regole che ne conseguono, a ipotetici conflitti di interesse dei funzionari pubblici e dei dirigenti, affidamento di esecuzione di contratti pubblici, lo sapete, ultimamente se ne parla moltissimo anche a proposito di revisione del codice degli appalti. Da questo punto di vista l'ANAC dà delle regole alle pubbliche amministrazioni, i piani trenali di prevenzione della corruzione, il codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, gli obblighi di pubblicazione del decreto 33, la cosiddetta sezione amministrazione trasparente che trovate su tutti i siti istituzionali, tutte le pubbliche amministrazioni e il codice degli appalti che ultimamente da molto da pensare all'ANAC perché è un oggetto di revisione, quindi c'è un dibattito aperto di cui si discute anche, capita che se ne parli anche al Tg della Sera per dire che è un tema particolarmente caro in questo momento che sta avendo particolarmente rilevanza anche da un punto di vista mediatico. Contestualmente altro soggetto a cui non possiamo non guardare nel momento in cui parliamo di accanto per le pubbliche amministrazioni è evidentemente il dipartimento della funzione pubblica, il ministro per la pubblica amministrazione, anche qui ci sono iniziative del dipartimento della funzione pubblica che svolgono un ruolo centrale rispetto all'accanto per le pubbliche amministrazioni italiane, basti pensare al FOIA, accesso civico generalizzato che è entrato nella normativa italiana da 5-6 anni se non ricordo male e consente a chiunque di chiedere alle pubbliche amministrazioni informazioni non ancora pubblicate, purché non rispettino dei vincoli di privacy e di riservatezza, però è uno strumento di accantoabilità estremamente potente che potenzialmente rende chiunque in grado di chiedere alle pubbliche amministrazioni delle informazioni. Il ciclo delle performance, i PA o i piani integrati di attività e organizzazioni che in questo momento sono diventati quei documenti strategici da un lato e di rendicontazione dall'altro che integrando funzioni diverse diventano davvero la pietra angolare su cui puoi andare a costruire nella pratica l'accountability delle pubbliche amministrazioni e ce ne sono chiaramente tante altre. Tra queste una delle iniziative di accountability che nel corso degli anni ha evidentemente dato grande risalto a questo tema all'interno della pubblica amministrazione non fosse altro che la ragione per cui siamo qui oggi a parlarne, cioè l'adesione del Dipartimento della Funzione Pubblica con un ruolo di coordinamento e chiaramente con l'adesione da parte dell'intero governo italiano Open Government Partnership per cui abbiamo parlato a lungo la settimana scorsa ed è l'iniziativa internazionale multilaterale che tra le altre cose ha caro il tema dell'accountability e chiede ai governi che aderiscono, tra cui l'Italia che ha aderito una decina di anni fa, di portare avanti iniziative direttamente collegate al tema della trasparenza e dell'accountability. Detto questo credo di avervi raccontato più o meno tutto, ho sforato di qualche minuto, chiedo scuso a Gigi Reggi, chiedo a Gigi di aprire la sua webcam, il suo microfono, non mi sembra che ci siano domande, ho visto che c'è qualcosa di acciotto, non credo. Chiudo la mia condivisione così do modo a Gigi di condividere le sue slide. Gigi, a te la parola. Grazie, grazie Gianfranco, spero vedate lo schermo. Sì, sì, vediamo tutto, Gigi, vediamo e ti sentiamo bene. Perfetto. Allora, non voglio rispondere alla tua domanda di prima perché è sulla questione delle definizioni, perché credo che le definizioni di accountability cambiano un po' dal punto di vista. La letteratura accademica, e lo dico perché poi mi ci soffermerò durante questo breve intervento, si sofferma su due elementi, cioè il primo è la capacità da parte della pubblica amministrazione di dare la possibilità di formare un giudizio da parte di enti esterni, di soggetti esterni. Quindi nel caso appunto di quella che viene chiamata l'accountability sociale, quindi la pubblica amministrazione che rende conto alla società, quindi ai cittadini, agli stakeholder, alle organizzazioni del terzo settore o qualunque altro soggetto interessato all'azione pubblica, ecco in quel caso è importante che anche la trasparenza con cui spessissimo si confonde l'accountability, no? Perché è quasi, a volte è quasi impossibile riuscire a slegare questi due concetti, però la trasparenza ha un ruolo di non semplice, diciamo, di dare dati fuori, mi viene in mente il tema di provision, no? Cioè di pubblicare dati all'esterno, ma di pubblicare informazioni o semplicemente rispondere a domande, richieste di informazioni, come ad esempio il FOIA, al fine di dare la possibilità di creare questo giudizio, cioè la possibilità per ciascuno di interpretare poi effettivamente i dati, capire che cosa fa la pubblica amministrazione e dire, ah, qui ci sono dei problemi, qui invece c'è qualcosa di positivo e questo poi porta a una serie di conseguenze che possono anche essere, per esempio, segnalazioni di punti di allarme, no? Di punti di attenzione, come si parlava dell'ANAC, no? Per esempio Esatto. Guarda, Gio, su questo forse possiamo anche provare a rilanciare a vicenda queste definizioni, provando a rispondere ad Ormanda di Ieva, che dice qual è il ruolo dei cittadini nell'accountabilità della pubblica amministrazione? Se ti dovessi dare una mia interpretazione direi che il ruolo dell'accountabilità dei cittadini nell'accountabilità è quello di interessarsi, cioè di avere a cuore la generazione di valore pubblico anche attraverso l'attività della pubblica amministrazione e quindi essere interessati a quello che sta succedendo, guardare i dati, chiedere, fare richieste d'accesso, manifestare il proprio diritto a essere informati rispetto all'attività, essere informati e quindi crearsi un giudizio consapevole rispetto alle attività della pubblica amministrazione. Considerate che moltissimi degli esempi che abbiamo visto oggi, ma che faremo anche in avanti, parlo di grandi banche dati, che in logica di trasparenza, che assistono le informazioni, partono tutte con la finalità principale di migliorare il dibattito pubblico, il dibattito democratico rispetto all'attività della pubblica amministrazione. Poi non lo so, tu come risponderesti? Qual è il ruolo dei cittadini nell'accountability della pubblica amministrazione? Io risponderei partendo con le mie slide sul monitoraggio civico. Nel senso che il monitoraggio civico è un esempio di uno strumento, di un metodo che può essere utilizzato ai fini dell'accountability. L'accountability abbiamo detto, c'è quella bancaria, c'è quella politica, c'è quella che le amministrazioni hanno rispetto ai livelli diversi di governo, così più sul PNRR, c'è un accountability del PNRR, per cui in Italia, se vuole, le tranche di pagamento semestrale deve dimostrare di avere i conti in regola, di avere fatto le riforme, di avere fatto gli investimenti. Ecco, nel caso del monitoraggio civico parliamo di accountability sociale, cioè appunto, come dicevo prima, la pubblica amministrazione che mostra un po' i conti, fa vedere le carte alla cittadinanza, agli stakeholder. In questo senso quindi i cittadini sono protagonisti appunto, nel senso che sono loro che iniziano un percorso per andare a studiare, a verificare quello che le pubbliche amministrazioni fanno. Io già faccio subito una premessa, qui parlerò molto poco del monitoraggio civico in generale, vi parlerò del metodo di Moniton, che significa monitoring, marathon, maratone di monitoraggio civico, è un'iniziativa che io seguo personalmente e quindi ci tenevamo a darvi anche un esempio concreto di come questo tipo di iniziative possono avere valore per l'accountability. Adesso ci provo, diciamo. Allora, il monitoraggio civico appunto è uno strumento di partecipazione innanzitutto che permette alla collettività e alla cittadinanza di aumentare la consapevolezza sugli obiettivi e i risultati delle politiche, perché andare a monitorare significa innanzitutto sapere cosa monitorare, quindi sapere cosa fa la pubblica amministrazione, come la fa, come vengono spesi i soldi, eccetera. e questo è un elemento centrale, quello di formare questo giudizio sull'efficacia degli interventi e poi alla fine lo scopo è quello di incidere sulle politiche pubbliche, quindi prima parlavo di quali conseguenze ha alla fine questa azione, questa partecipazione, questa trasparenza. Alla fine qualcosa deve succedere di concreto, quindi spronare le amministrazioni a conseguire risultati, segnalare punti d'allarme, aumentare l'efficacia degli interventi, dando consigli, dando suggerimenti e quindi produrre poi un cambiamento. Il monitoraggio civico ha tre valori, il primo è chiaramente anche un valore educativo nei confronti degli studenti o delle associazioni o delle varie persone che sono coinvolte, che devono innanzitutto capire i documenti, leggere le politiche pubbliche, riuscire a interpretare i dati, eccetera, ma anche un valore chiaramente di cittadinanza, quindi appunto qui il tema di come il cittadino può partecipare, può dare un apporto in termini anche di competenza e di conoscenza, ma ha un valore qui, diciamo è il motivo per cui abbiamo scelto un po' questo esempio, un valore per l'accountability, perché il primo, il centro, il fulcro del monitoraggio civico è quello di dare la possibilità di formare un giudizio informato, perché lo chiamiamo informato? Perché è un giudizio che non si basa su come spesso si fa, in Italia ma non solo, si parla un po' come essere un po' il bar, ognuno ha la propria opinione, sono opinioni basate su io mi fido di una certa cerca, di un certo punto di vista, quando in realtà le cose cambiano un pochino se uno effettivamente va a vedere, va a verificare coi propri occhi, va a visitare cosa viene fatto dalle politiche pubbliche, in questo senso è informato, no? E sulla base di questo tiene conto, chiede conto alle amministrazioni, quindi il giudizio porta sempre poi a un dialogo, a un contatto diretto con i soggetti responsabili, amministrazioni, ma anche soggetti privati, per esempio, che realizzano progetti, servizi, infrastrutture e questo, diciamo, è la parte che secondo me ha più, diciamo, contatto con quello che è secondo me il concetto dell'accountability, cioè alla fine arrivare, dire non ci bastano i dati, non ci basta la trasparenza, vogliamo che le amministrazioni rispondano alle nostre richieste, forse il punto due della definizione che vedevamo prima del sito, mi pare quello del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questa è una nostra definizione, qui vado veramente rapidissimo, attività, che cos'è il monitoraggio civico? Attività sistematiche di controllo, di verifica, raccolta di idee e di proposte che diversi attori esterni alle PA conducono nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti responsabili. Il termine monitoraggio civico deriva un po' dall'esperienza del 2012 di Open Coesione, in cui, appunto, Open Coesione è questo portale nazionale che pubblica i dati del monitoraggio amministrativo dei progetti finanziati dalle politiche europee. Ora, il concetto del monitoraggio civico è appunto l'idea che si possa affiancare questo monitoraggio amministrativo che tutte le amministrazioni devono portare avanti, anche solo per fare funzionare la macchina amministrativa, per consentire l'adempimento di tutti i passaggi procedurali, affiancarlo ad un monitoraggio civico che venga fatto proprio sugli stessi progetti che vengono monitorati anche dalle amministrazioni. Dopo vedremo un pochino come. Cosa serve per monitorare le politiche pubbliche? Serve sicuramente accedere e analizzare i dati pubblici, quindi in questo senso la trasparenza è fondamentale e se non c'è, diciamo, è importante fare richieste per accedere ai dati, ma anche raccogliere poi nuovi dati e nuove informazioni sul campo, quindi andare appunto a visitare i progetti, andare a fare interviste, a fare focus group, a fare, mandare questionari per valutare per esempio l'impatto di una certa opera e poi la parte di condivisione dei risultati, quindi creare alleanze, mobilitare energie sui territori e fare diventare, diciamo, il monitoraggio un'azione realmente partecipativa che possa coinvolgere i cittadini di una certa zona, di un certo quartiere e i portatori di certi interessi, persone che hanno a cuore una certa politica pubblica e alla fine produrre dei giudizi appunto che sono basati su queste evidenze e confrontarsi con i soggetti responsabili. Confrontarsi significa, nella nostra esperienza, che ad esempio gli studenti di un corso universitario chiamano e organizzano un evento pubblico in cui chiamano a confrontarsi con loro, diciamo, a dibattere tutte le amministrazioni che sono responsabili di un progetto che è stato monitorato, quindi nel caso, per esempio, progetti europei o progetti del PNRR, e in questo modo chiedere conto all'amministrazione. Quello che viene presentato è il risultato del monitoraggio civico, abbiamo trovato questo, abbiamo questi suggerimenti, abbiamo trovato questi problemi e cosa può fare l'amministrazione per migliorare, cosa può fare per rendere questi servizi sempre più efficaci, queste opere sempre più efficaci. Vi dicevo appunto il caso di Moniton, che è un'iniziativa che attiva su questo tipo di monitoraggio dal 2013 a una piattaforma con delle domande, con dei testi guida, con una piattaforma che si chiama Monitutor, il tutor del monitoraggio che ti aiuta a pianificare le domande, le indagini, a cercare le informazioni, interpretare i dati. Finora sono stati pubblicati sulla piattaforma di Moniton oltre, mi pare, 1280 circa, report di monitoraggio civico. Questi sono report che vi invito ad andare a vedere su monitor.eu per avere un'idea. Sono il frutto, nel caso, per esempio, delle scuole superiori, di un intero anno scolastico, quasi, un intero anno scolastico di lavoro, all'interno di un progetto che si chiama Scuola di Oppo in Coesione, con cui noi collaboriamo da tanto tempo, ma ci sono anche studenti universitari che hanno dei corsi dedicati a questo, dei laboratori, ora sono in quattro università italiane, e poi ci sono gli attivisti delle varie associazioni del terzo settore, che per esempio in questi mesi stanno lavorando sui progetti del PNRR, che stiamo organizzando insieme ad altre associazioni, come ad esempio Action Aid, oppure Period Think Tank, delle scuole di monitoraggio civico in varie città, in cui, diciamo, c'è un po' un meccanismo già dall'inizio di collaborazione tra l'attivista, il giornalista, il soggetto esterno e i membri delle pubbliche amministrazioni con cui si inizia già a collaborare, anche come singoli cittadini volendo, all'interno di questi gruppi di lavoro. Quindi siete sicuramente invitati tutti a partecipare. Perché parlo sempre di progetti? Perché il progetto è un po', diciamo, il momento, adesso si dice sempre, della messa a terra delle politiche pubbliche, in cui tu vedi effettivamente l'evidenza di quello che viene finanziato, come viene realizzato, puoi andarlo a visitare, puoi toccare con mano quello che succede e puoi quindi stimolare anche l'interesse delle comunità locali, perché il fatto di essere dei monitori civici non è la cosa che ti viene da subito naturale. C'è tutta l'epopea del lumarell, c'è l'anziano che va a vedere i cantieri, ecco, però è comunque un lavoro che va al di là, diciamo, del visitare un cantiere. Devi comunque dedicare un po' di tempo a capire, a studiare i documenti, a intervistare, eccetera. Quindi è importante che si vada su questioni sentite, su questioni che effettivamente poi possono avere un impatto nei lavori delle comunità, nella vita delle comunità. È un approccio, vi dicevo, prevalentemente qualitativo, nel senso che si vanno a analizzare un po' i meccanismi causali, perché questo progetto va bene, va male, che cosa lo genera. Quindi si usano strumenti, appunto, come dicevo prima, legati soprattutto alle interviste e questionari, eccetera. Il monitoraggio civico si applica a tante fasi del ciclo di policy. Io questa slide ce l'ho da tanti anni. All'inizio era un po' soltanto sulla parte di monitoraggio, di valutazione, quindi come vi dicevo prima, sfiancare il monitoraggio amministrativo a un monitoraggio civico esterno dei soggetti, appunto, esterni alla pubblica amministrazione. In realtà ci sono, nel tempo, ci sono varie, diciamo, iniziative di monitoraggio civico che non sono solo monitone, no? Che riguardano anche, per esempio, il monitoraggio della progettazione degli interventi, il monitoraggio, ad esempio, delle riforme del PNRR e anche una valutazione di impatto, non nel senso accademico, diciamo, di valutazione delle politiche pubbliche in senso stretto, ma è una valutazione della percezione, diciamo, legata alla percezione dell'utilità, dell'efficacia di un certo progetto che viene, che è stato finanziato e che quindi può portare anche a dei suggerimenti, delle idee per poi programmare delle nuove politiche migliori, quindi in questo senso tutto si ricollega. Le slide, queste ve le lascio e non ho effettivamente il tempo poi di entrare nei tecnicismi, però l'idea è che nel ciclo delle politiche pubbliche molto spesso c'è uno spazio anche per questo tipo di attività di partecipazione legata al monitoraggio, alla valutazione di quello che viene fatto da parte civica. Un'altra nota riguarda il nostro approccio metodologico, l'approccio di Moniton, diciamo, e non solo di Moniton, diciamo, che un po' dipende dallo stato del progetto, chiaramente. Ora molti dei progetti, la maggior parte, diciamo, dei progetti nuovi del PNRR sono appena iniziati, quindi la sfida in questo caso, l'abbiamo affrontata per esempio con l'Università di Bergamo e con l'Università di Torino, è quella di andare a verificare, a monitorare un progetto che ancora, se volete, sulla carta, magari c'è uno studio di fattibilità, ci sono alcuni documenti preliminari, c'è sicuramente il progetto, il budget, però manca, diciamo, quello che si può effettivamente vedere. Quindi in questo caso, e questo non è solo il caso del PNRR, questo succede anche in generale su tanti fondi europei che abbiamo monitorato da tanti anni, e lì la sfida appunto è quella di andare a suggerire, valutare l'efficacia, diciamo, potenziale di questi progetti, andando ad esempio a vedere se gli obiettivi di questi progetti corrispondono, sono coerenti con quello che è il contesto in cui le comunità operano. E questa è una cosa che le comunità sanno fare bene, perché sono molto brave a valutare il luogo in cui loro vivono e a dare suggerimenti su, ad esempio, un tracciato di una certa linea di metropolitana leggera o di una pista ciclabile, se passa da una zona piuttosto che dall'altra, questo avrà un impatto diverso, no? Oppure quali sono dei servizi, tra virgolette, complementari che sono necessari perché questo progetto, che in futuro si realizzerà, abbia poi effettivamente un'utilità. Quindi questo è un po' l'approccio che stiamo seguendo. Se il progetto è in corso, di solito quello che si fa è andare a toccare con mano, appunto, cioè andare a misurare i progressi, i ritardi, anche in maniera, se vogliamo, io vi dicevo, approccio qualitativo, ma può anche essere quantitativo, andare a verificare se i pagamenti sono in linea con le aspettative, andare a monitorare quelli che sono i chilometri realizzati da una certa struttura e questo è un tipo di verifica che riguarda il progresso, no? C'è l'avanzamento procedurale, finanziario di un progetto che serve appunto un po' a spronare le amministrazioni che se sanno che qualcuno li viene a vedere, magari accelerano un pochino, ma anche appunto poi a vedere se i risultati intermedi che vengono realizzati sono poi coerenti, sono utili, sono efficaci, eccetera, eccetera. Quando il progetto è concluso, forse è ancora più interessante questa fase perché si può andare a vedere quali sono gli effetti del progetto, dell'opera realizzato, del servizio realizzato nella comunità, quindi spesso quello che abbiamo scoperto è che la maggioranza dei progetti che abbiamo analizzato, che tutti questi protagonisti civici hanno realizzato attraverso la piattaforma di Moniton, sono risultati alla fine positivi, che vanno un po', se vogliamo, a mettere in discussione quelli che sono poi i luoghi comuni, no? Sul fatto che non si spendono i fondi, che sono spesi male, che è tutto un disastro, in realtà molti... ci sono tanti progetti che non sono conosciuti, magari, e che invece hanno avuto un impatto molto positivo, hanno dimostrato di essere molto utili e su cui magari ci sono dei suggerimenti per far meglio in futuro. Quindi questo è un po' la... se andate sul sito di Moniton, potete vedere, potete anche selezionare, c'è una mappa in home page, ci sono i progetti suddivisi per giudizio, no? Quindi quando il giudizio è positivo, magari si scopre qualcosa di interessante, si valorizza anche quello che magari fanno tante pubbliche amministrazioni, spesso locali, che poi si può, diciamo, da cui si può anche imparare. Se il progetto, alla fine, si è concluso, diciamo, da tempo, questo è veramente un modo anche, se vuoi, un po' brutto di spiegare questo concetto, però, diciamo, dopo qualche anno uno può anche andare a misurare non solo il risultato immediato, ma anche l'efficacia di lungo periodo, senza volere fare, diciamo, un paper di ricerca, però ci sono degli esempi su progetti passati, io parlo, spesso mi riferisco alla programmazione europea, perché sono quelli, i progetti che andiamo a vedere noi di solito, quelli della programmazione 2007-2013 sembrano remoti, in realtà hanno ancora effetti molto perduranti e scatenano ancora polemiche barra giubilo nelle comunità, quindi sicuramente è un'altra dimensione importante. Adesso qui io vado veramente molto rapido, perché vorrei anche, vedo che già arrivano delle domande, quindi lascerei spazio alle domande. Sul sito sempre di Moniton, se volete approfondire, diciamo, questa pratica, c'è un bottone che si chiama Monitora un progetto, è un bottone giallo in alto a destra, lo dico perché non mi ricordo se si chiama esattamente così, e ci sono questi sette passaggi, questi sette passi del monitoraggio civico spiegati con, diciamo, vari link, vari esempi, quindi questo è il luogo in cui, se volete, potete approfondire il metodo, diciamo, che seguiamo. Quindi non entro nel dettaglio, però voglio sottolineare appunto il fatto che la fase, in particolare la 5, è la fase in cui si valuta il progetto, quindi c'è effettivamente la formazione di questo giudizio, sempre ai fini dell'accountability, e la parte 6, che è quella di condivisione dei risultati, che come vi dicevo, è una fase in cui si chiede conto all'amministrazione, di fatto, perché c'è una condivisione che riguarda la comunità, quindi ad esempio il fatto di andare sui media, di essere chiamati, di essere intervistati, di avere più visibilità all'interno, nel dibattito pubblico, quindi portare, migliorare anche il grado di informazione del dibattito pubblico, cioè quanto il dibattito pubblico è effettivamente informato sui fatti e sulle evidenze, basato sulle evidenze, ma c'è anche una parte di condivisione nei confronti appunto dell'amministrazione, ne ho già parlato prima, che è la componente in realtà più importante, perché se vuoi avere un impatto, vuoi avere un cambiamento nel modo in cui vengono ad esempio spesi i fondi del PNRR, lo devi fare necessariamente passando attraverso le amministrazioni che sono poi responsabili dei vari interventi e quindi qui siamo entrati in gioco voi, col doppio cappello se vogliamo, da cittadini e quello di amministratori pubblici. Quindi io non so se ho fatto tardi o ho fatto presto. Hai fatto giusto Gigi, va bene. No, in realtà come dici prima ci sono un po' di domande, io se vuoi te le leggo a beneficio di tutti e se ti va di rispondere. Prima parto dalla chat, il monitoraggio civico si realizza tra l'altro i processi partecipativi, se così fosse non si limita a circoscrivere comunque l'iniziativa della pubblica amministrazione. Aspettate che... No, scusate, provo a leggervi questa domanda. In un'ottica di sfiducia diffusa nell'apparato amministrativo e in vista di un cambiamento che si cerca di attuare attraverso queste iniziative e il PNRR, quale potrebbe essere il consiglio concreto da dare per smuovere la parte civile. Non so se vuoi provare a rispondere tu, Gigi, oppure la prima cosa che mi viene in mente, provo a dare una prima risposta al volo, che Open Police, che è uno dei oggetti di cui abbiamo parlato prima, ha avviato, a proposito del PNRR, un'attività molto puntuale, molto lungimirante sul monitoraggio civico del PNRR. Sentivo i dati stamattina, ci sono già 5.000 monitori, cittadini quindi che si fanno carico del monitoraggio, esattamente nella stessa logica che qui raccontava Gigi un attimo fa, del PNRR partendo da quel sito, ma si possono fare anche tante altre cose. Non so se su questo, G, tu hai qualcosa da dire e aggiungere. Sì, io partirei da quelle parti della società civile che già sono impegnate per allargare il più possibile il giro, il pubblico di queste iniziative. Open Police sono una di queste, c'è questo portale Open PNRR in cui tu ti puoi abbonare, esattamente come diceva Gianfranco adesso, ti puoi abbonare a un investimento, ad esempio, del PNRR e continuare nel tempo a vedere come va. Un altro modo ancora più, diciamo, demanding dal punto di vista del tempo è quello di partecipare a una scuola di monitoraggio civico. Ora ne è partita una a Roma, due venerdì fa, e ancora ci saranno altri tre appuntamenti, quindi chi è su Roma, c'è questa scuola di monitoraggio civico dell'osservatorio civico PNRR, poi magari qua diamo un po' di link, un po' di cose in chat da qualche altra parte. Anche in altre città, per esempio a ottobre a Bari partirà una scuola di monitoraggio sugli aspetti di genere, quindi anche su aspetti più specifici, l'aspetto di genere è un aspetto molto importante, è una priorità trasversale del PNRR, si applica gli asini nido che è uno dei temi più importanti, quindi, e anche sui media ci sono, ci saranno iniziative in cui, ora che sono usciti i dati del monitoraggio amministrativo appunto del PNRR, iniziative anche proprio di facilitare l'accountability, per cui mostrare attraverso mappe, attraverso grafici e invitare anche attraverso iniziative come Moniton, poi di andare ad approfondire ognuno con i propri amici, o anche da solo se vuole, o con il nostro aiuto. Quindi questo è il menù. No, in realtà, guarda, c'è un'altra domanda interessante di Anna, sempre contenitore domande e risposte in questo caso, chiede Anna se l'accountability si applica a tutti gli stadi del di progetto, nel senso che anche la fase di azione oppure solo alla conclusione e quindi a cose fatte. Prova a darti una prima risposta coerente con i principi del governo aperto e con tutti i corsi che, come vi raccontavano ora all'inizio, abbiamo avviato su questa attività, considerate che la partecipazione pubblica, cioè la possibilità di co-definire le politiche pubbliche sulla base di un'intuizione della pubblica amministrazione rilanciata, arricchita dai commenti, dalle istanze, dai punti di vista, dai contributi dei soggetti che sono all'esterno, è già stessa un momento di accountability, nel senso accountability in quel caso è declinato come tracciabilità del processo decisionale, cioè mostrare come una pubblica amministrazione matura le proprie decisioni, come le ponder sulla base di cosa si basano. Una volta, non so se vi è mai capitato di sfogliarlo, probabilmente chi di voi lavora alla pubblica amministrazione è toccato più di qualche volta, se leggete i vari programmi operativi partono tutti con dei capitoli anche piuttosto importanti di analisi di contesto, in quel caso si racconta perché si investe su una politica pubblica piuttosto che su un'altra a fronte dei dati raccolti e delle esigenze individuate. Da questo punto di vista l'accountability può rilanciare il ruolo dei cittadini anche della codefinizione e della partecipazione delle politiche pubbliche, quindi sicuramente ogni ciclo di una politica, guardando al cycle project management a proposito di progetti europei e di modalità con cui la pubblica amministrazione può svolgere, può portare avanti i progetti, sicuramente ogni pezzo di quel ciclo di progettazione e realizzazione e monitoraggio dei progetti può avere momenti di accountability, gli strumenti ci sono e ce ne sono tanti. C'è un'ultima domanda di Alessandro, sempre nel contenitore domande e risposte, salto delle parti, faccio un po' di sintesi, l'esperienza ci ha insegnato a subire ciò che veniva dall'alto per così dire, quasi a voler testimoniare insindicabilmente la perenne ragione di chi governa e non solo, la accountability rappresenta un concetto avanzatissimo ma siamo realmente pronti a sfidare le istituzioni? Adesso provo a risponderti Gigi, ti do una prima prima, io non credo si tratti di sfidare le istituzioni, si tratti di collaborare, cioè di trovare una modalità attraverso cui le istituzioni dall'auto, come ci dice il governo aperto, come ci dice molta della normativa che le istituzioni devono rispettare, si rendano osservabili dall'esterno e quindi a quel punto siamo i cittadini a farsi avanti, a chiedere, a mettere il sale sulla coda, un po' come diceva Gigi prima, sui progetti monitorati, cioè evidentemente è come sulle attività che facciamo, cioè se il mio capo mi sta più addosso su qualcosa che devo consegnare, per forza di cose io ci sto un po' più attento. L'idea è di creare meccanismi simili, cioè meccanismi di pressione alla pubblica amministrazione che arrivano dall'esterno sulle attività che stanno portando avanti e quindi di conseguenza renderle più efficienti. Non so che ne pensi tu Gigi. Penso sia un problema anche, forse quello che voleva sottolineare il collega Alessandro, è un aspetto culturale anche, che riguarda, siamo abituati un po' alla passività e questo è un problema se vuoi anche democratico, un po' più generale, c'è il fatto che appunto è un problema che c'è sempre meno persone che vota, c'è sempre meno persone che si interessa, quindi è un tema sicuramente molto più ampio di quello che possiamo affrontare oggi, credo. Quindi alla domanda siamo realmente pronti? Direi di no in generale, però io personalmente, come anche tutti noi che siamo qui a imparare cos'è l'accountability, stiamo facendo, stiamo dedicando davvero gran parte della nostra piccola esistenza, diciamo, a migliorare questa situazione, provare a fare qualcosa per cambiare questa cultura. E quindi mi sentirei diciamo di invitare Alessandro a raggiungerci in questo sforzo, insomma, ad aiutarci. Ne approfitto anche, visto che compare Nora, ne approfitto anche per rilanciare il progetto Open Coesione che appunto lavora sulla base dei dati e con le modalità che vi ha raccontato Gigi un attimo fa in logica di monitoraggio civico, nelle scuole e sul passaggio che faceva Gigi sull'essere più o meno pronti, sull'avere una cultura di monitoraggio, di richiesta, di messa a conoscenza delle informazioni, certamente le scuole sono un punto centrale, quindi la scuola di Open Coesione fa un lavoro importantissimo nel rendere i ragazzini di oggi che diventeranno i cittadini che votano e che portano avanti a di domani a creare una cultura di monitoraggio, una costruzione di osservazione, una cultura di consapevolezza del funzionamento della macchina pubblica diversa da quella che magari abbiamo avuto noi che quando facevamo l'educazione civica al liceo ci insegnavano i segnali stradali, insomma, cioè per dire, comunque è un avanzamento di questo. E non li abbiamo mai imparati. E non li abbiamo mai imparati. Nora, lascio a te un rilancio sulla scuola di Open Coesione e la chiamata di questo web. Io intanto ho messo un po' di link nella chat, sia mentre parlavate voi all'osservatorio civico, poi ho messo il link a Moniton e adesso in conclusione il link anche alla scuola di Open Coesione, appunto questo percorso didattico fatto nelle scuole superiori e da quest'anno, anzi dall'anno scorso anche quelle, le scuole medie, quindi le scuole di primo grado. Da dieci anni porta avanti questa iniziativa in collaborazione con i docenti, divisa in quattro lezioni, di progettare, analizzare, esplorare, raccontare. Le classi diventano delle piccole monitoranti e scelgono un progetto finanziato dalle politiche di coesione e dall'inizio alla fine, quindi dalla costruzione della ricerca fino a ricerca e analisi dei dati, interviste, costruzione di output come articoli e video di monitoraggio, nonché il report di monitoraggio su Moniton, fanno queste attività e questo è sicuramente molto utile e molto interessante. Io ve ne potrei parlare per ore, ma non posso, devo anzi chiedere a tutti quelli collegati che sono iscritti al nostro mock accountability di fermarsi per veramente un minuto, non ruberò di più, perché vi devo dare solo delle, scusate io qui nel frattempo avevo aperto per darvi il link, ho fatto anche un po' di pubblicità, scusate. Per quelli che sono già iscritti al nostro mock accountability, vi ricordo il forum di discussione, per chi non si è iscritto può vedere adesso anche un po' la piattaforma con questi screenshot, con il forum di discussione potete scrivere a noi, ma potete anche avviare delle conversazioni su degli argomenti che vi interessano, ad esempio vedete qua ci sono diversi argomenti iniziati da corsisti di edizioni precedenti, ad esempio questa sui social, un partecipante era interessato a confrontarsi con gli altri partecipanti su questo argomento e ne è nata una discussione. Potete sottoscrivere il forum selezionando la voce sottoscrivi questo forum che vedete qui evidenziata, così riceverete direttamente l'avviso via mail. Per aggiungere l'argomento, un argomento di discussione, basterà selezionare il pulsante verde. Usate sempre dei titoli parlanti dai quali si capisca un po' ciò di cui l'argomento che volete affrontare e magari date anche un'occhiata agli argomenti già proposti che non ci sia già qualcosa di simile a quello che volete avviare voi. Rispetto ai nostri materiali che avete a disposizione da usufruire, abbiamo visto questa settimana si è aperto il secondo modulo, cos'è la accountability, avrete notato che al termine di ogni modulo c'è un quiz e i quiz li potete svolgere quando volete, potete anche farli più volte fino alla fine del nostro corso prevista per il 7 giugno. Per i quiz non si spunterà la casella di completamento perché è un'attività e le attività si spuntano solo a termine dell'intero corso, quindi si aggiornerà automaticamente quando chiuderemo l'attività prevista per il 7 giugno e dall'8 giugno vedrete tutte le spunte comparire anche relativamente ai quiz. Io non posso solo salutarvi perché siamo già oltre un po' i tempi, ringrazio Luigi e Gianfranco perché riuscite sempre a non solo a informarci, a darci un sacco di input ma anche a divertirci che non è poco anche con questi begli scambi e questa sintonia che c'è tra di voi e vedo che nelle chat arrivano saluti e ringraziamenti. Ai nostri corsisti e alle nostre corsiste io do l'appuntamento alla settimana prossima, riceverete tutte le informazioni tramite il nostro forum. A chi ci conosce oggi per la prima volta e conosce oggi i nostri mock, l'invito è quello di andare a vedere l'offerta formativa e perché no iscriverci, iscrivervi. Ciao a tutti, grazie mille. Grazie a tutti, veramente.